il tema pirateria è un tema importantissimo che non sta diventando è diventato vitale per noi anzi mortale direi vi do anche qui due numeri tanto per darvi un'idea il settore cinema c'è solo la sala e l'on video fatturano un miliardo e due qualcosa di più di un miliardo e duecento milioni di euro le stime sulla pirateria tra risorse che sottraggono alla sala e all'on video e circa 500 milioni di euro quindi una somma immensa basterebbe recuperare almeno una parte non dico sconfiggerla che è impossibile ma basterebbe recuperare almeno una parte di questi 500 milioni per risolvere tantissimi problemi non si può punire chiaramente l'utente finale chiamiamolo così ma tanto per ricollegarmi alla politica con le associazioni di categoria sono anni che ci battiamo per fare qualcosa oggi c'è una proposta di regolamento dell'agicom adesso non voglio dilungarmi nei tecnicismi però il punto fondamentale è che la politica nessun partito politico ha il coraggio di prendere l'iniziativa perché in ogni parte politica c'è chi ha paura del cosiddetto popolo della rete